Non so rispondere a queste domande e non dovrei nemmeno parlare con te, sto violando i termini della mia vacanza. Della vacanza? Certo, nel futuro la gente non viaggia verso una destinazione, ma attraverso le epoche storiche. Infatti la scorsa estate sono tornato ai tempi di Cristo. Mi sa che le sue abilità sono state un po' ingigantite. La scorsa estate è la scorsa estate.